Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati Riparlarci Bentornati sul mio canale Qui è sempre UchikaGamer che vi parla E siamo tornati su Dexter Complimenti Hai superato ogni mia aspettativa Il pagamento è stato effettuato E ora chiamerò subito il tuo capo Perfetto Che entusiasmo Ok missione completato E ora andiamo Ottimo lavoro Dexter Ho sentito che hai fatto Un lavoro esplosivo Ora ho bisogno di ripulire un cantiere No Questi insetti non aspettano neanche Che un palazzo sia finito E dov'è però? Di là? Che c'è il segno del cantiere Eccolo lì C'è raga questo è un gioco per PSP Quindi non vi aspettate chissà che durata Siamo Sopra ancora Sì perché questa non si muove Quindi Allora Acqua Acqua Il trofeo No Non so di che fosse un po' più Ok L'ha faltato uno Ok Io ho Non so di che fosse un po' più Non so di che fosse un po' più Oh Hopla Beh Ah qua Ok qua Perfetto Sì di qua Sì di qua Sì di qua Sì di qua Stiamo guadagnando trofei su trofei o sbaglio? Non so di che fosse un po' più Non so di che fosse un po' più Non so di che fosse un po' più Dai ma Mi ero già arrivato in fondo io Madonna Madonna Oh 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 Troppo lungo Ma perché? Non era così lungo il salto Non sembra un insetto? Non sembra un insetto? Su Su scopri le carte E' meglio che parli se non vuoi una bella piombatura nuova ai detti Chi diavolo sei? Potrei chiederti la stessa cosa Dolcezza Se vuoi saperlo io sono Tarin Fammi indovinare Tu sei uno di quei ridicoli sterminatori che si illudono di ripulire la città Ma è sape una cosa Quegli insettoni di metallo sono fuori dalla tua portata Quindi prendi i tuoi giocattoli e fila via E ti dirò che è una cosa Quel tono ti rende molto sexy Abbiamo problemi più grossi di quanto credi Vuoi aiutarmi? Ma ti avverto qui si fa sul serio Tu becchi i parassiti E intanto io muovo la gru Pensi di potercela fare? Ok bella nessun problema Guarda come si fa tesoro Ehi Attento dove spruzzi quella roba cowboy Perfetto Abbiamo ottenuto una nuova arma? Che parte vai? Ora non capisco com'è Non mi ricordo com'è se usato Il coso Il precarso Sei in posizione ragazzo Scendi e ripulisci la piattaforma Ti recupererò quando gli insetti sono tutti andati Va bene Ok Ora ho capito Ma non c'è più nessuno baby Ancora due Ancora due Ma non c'è più nessuno Impressionante, ne manca uno. Ma vedi che sarà un insettone grosso grosso gigante. Voi, roditori, siete pieni di sorprese. Se riesci a tornare sano e salvo, ci vediamo al bar. Oh. È una sfida per vedere se riesco a tornare. Ok, infettoni. Ok, infettoni. Qua. Cara della roba qua so faram. no ma ma perché finiva non non me ne ero accorto ma io ho saltato ok non mi vedo lì c'è qualcosa no ok no 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 Ok Ok Qua Allora lì Guarda là che c'è della roba No ma non ve... Non si vedeva però eh Ok No No Perché a volte non si capisce dove stanno i precarcioli Se sono nel mezzo Allora se sto fermo lo piglio Se mi muovo lo piglio Quindi devo fare... Uiii E se non lo faccio quello Che palle queste discese fatte così ho Sono frustranti Ok Ok Opla Non è qua dietro c'è qualcosa Eh vedi Ma mò? E come vado là io? Non ci arriverò mai lì Ah da sopra Vabbè Da qua sopra si ce la posso anche fare Mmm E dai sali Non ce l'ha capito Edda Perché si stacca? Mmm Mmm Ok Ok Fetto Opla Chiamata per Dexter Forza Dexter Torna immediatamente al negozio Critter Reader Ok Molto Bene ragazzi direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta ripartiremo da qui Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Ci vediamo E alla prossima Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli